buongiorno ragazzi mi raccomando per chi eh volesse sostenere questo canale lo può fare gratis con un semplice clic su iscriviti ed attivando la campanellina come dicevo ieri sera il professor Fabrizio Bava tra l'altro anche tifoso della Juventus ieri eh in un canale YouTube proprio Bianconero un canale molto seguito diceva che eh che la Juventus violerà eh il settlement agreement che difficilmente riuscirà a rispettarlo e dice anche espressamente che la Juventus spera in una multina ma occhio perché rischia il blocco del mercato gennaio e luglio duemilaventicinque ed è quello che ci auguriamo tutti perché le regole sono fatte per essere rispettate ma loro hanno qualche problemino con le regole e con le leggi questo dice eh il passato diciamo tra l'altro parlando e tornando al presente dopo il regalo di Gobbisso presidente della Fiorentina che gli ha comprato un giocatore che ha fatto zero gol zero gol in un anno trovatemi un attaccante che fa zero gol in un anno in Serie A secondo me non era mai successo tranne vabbè qualche ragazzino della primavera tramite il regalo di Gobbisso eh la Juventus molto probabilmente si porterà a casa un altro grande giocatore non ho problemi ad ammetterlo chi è che Fren Turam giocatore a me piace tantissimo lo avrei voluto all'Inter non mi rimangio quello che ho detto ma grazie al regalo di Gobbisso eh gireranno i soldi molto probabilmente a Nizza e si porteranno a casa Turam che è a scadenza di contratto quindi Turam non può andare in prestito da nessuna parte perché è in scadenza duemilaventicinque eh non voglio entrare in nessuna polemica a parte questo la Juventus secondo calcio e finanza con i due bambini nell'operazione Douglas Luiz registra due maxi plus valenze e non e non solo non è finita qui e chissà come mai sicuramente non so sarà stato un caso ma Douglas Luiz ripeto c'era il Manchester United pronto a mettere ottanta milioni sul tavolo fino a qualche mese fa non solo non rimane in premier perché non lo voleva solamente il Manchester United lo voleva anche il Bayern Monaco lo voleva il Manchester City non solo rimane in premier viene in Italia con tutto rispetto per il campionato italiano che a livello tattico è ancora uno dei primi al mondo ma a livello valutativo ehm è quello che l'è il campionato italiano quindi viene in Italia viene pagato venti milioni più bonus più i due bambini ma non solo in più ci sono viene fatto un pagamento in due anni quindi tra un po' tra un po' la Stone Villa eh pagava la Juventus per prendersi da Douglas Luiz che ripeto come Rice eh dell'Arsenal che è stato pagato centosedici milioni secondo me Douglas Luiz è molto più forte di Rice che è stato pagato centosedici milioni e parliamo di un giocatore importante che sa fare la doppia fase parliamo di un motorino di centro campo parliamo di uno che ha i piedi buoni parliamo di uno che ha tanta classe sto parlando del brasiliano che ha preso la Juventus in premier league i prezzi sono avanti uno va a centosedici e uno non si sa che prezzo sia andato in serie A praticamente sono dei misteri questi questi sono dei misteri che che sicuramente quello della Exor non c'entra nulla o mi dicono loro ma ci sono tanti misteri dietro queste due maxi plus valenze per quello che riguarda il mercato dell'Inter ragazzi e questo non è un discorso eh che faccio per fonti o contro fonti questo è un discorso logico come quando abbiamo abbiamo facevamo le live sul discorso finanziario di Zang come quando Mezzomondo dava pinco ufficiale all'Inter e io mi permettevo grazie anche all'aiuto dei ragazzi dello studio della documentazione di cui siamo in possesso mentre tutti davano pinco fatta mi chiamava anche qualcuno Giuse però avete toppato Zang ma avanti non era vero che nessuno gli davano un euro e io facevo i video ironici su pinco pinco io e ci sono ancora questi video sono ancora online io dicevo pinco non è una onlus pinco non darà un euro a Zang pinco non presta i soldi ed è quello che poi è successo riallacciandomi a questo io ti dico che i giocatori da 40 milioni non esistono all'Inter sarà un mercato simile a quello che ha fatto Zang negli ultimi anni e molti di voi mi dicono Giuse ma la differenza qual è l'è la differenza l'è che non rischi di fallire che a livello finanziario sei stabile e che è di passaggio anche perché e riprendo anche quello che ha detto alle G in live che abbiamo detto con alle G in live mi sembra giovedì una live improvvisata alle undici di sera tra l'altro con tantissima affluenza di pubblico ma lo sappiamo eh che grazie a voi in live siamo secondo me il secondo terzo canale più seguito sull'Inter ma di staccando di gran lunga tanti altri canali dietro 3 proprietari dell'Inter sono quattro società ci sono quattro società dietro 3 che hanno messo i soldi per l'Inter tra l'altro ancora non ha ripreso i soldi che ha prestato a Zang perché ora c'ha tutto il calderone in mano e e quindi c'è da dire che l'Inter purtroppo continua a bruciare soldi molti meno rispetto a due tre anni fa però comunque è una società in perdita quest'anno chiuderemo ancora meno 50 e c'era chi già stappava le bottiglie per perché diceva gente che va in televisione e chiede soldi professionisti gente che ti diceva quest'anno l'Inter andrà in pareggio non andrà in pareggio purtroppo quindi oggi già deve far fronte a delle perdite e deve capire come gestire il bond il bond lo può anche lasciare lì rinnovando le garanzie o qui non è detto che lo debba per forza pagare attenzione quello poi lo decideranno loro quindi hanno il bond il bond da gestire hanno le perdite da gestire e hanno le perdite a nuovo soprattutto da gestire quindi secondo secondo qualche fuori classe si mettono a fare acquisti da 50 60 milioni sapendo benissimo che loro qui sono solo di passaggio perché non l'ho dichiarato io ragazzi ma lo hanno dichiarato loro qualche mese fa che non erano assolutissimamente interessati alla gestione dell'Inter loro come abbiamo sempre detto qui e non solo io anche i ragazzi loro tornano una squadra competitiva se si vende si compra ma acquisti da 40 50 non esistono ci sono acquisti con delle contropartite dentro prestito con obbligo buongiorno 40 milioni non ci vieni all'Inter te lo dico io è impossibile ma te lo sto dicendo da un mese anche perché stamattina Dio non è quasi fatta con il Napoli perché Conte lo vuole a tutti i costi e Porentis si è spinto a 35 più Odgaard che comunque è un bel difensore da dare al Torino quindi è un'operazione da circa 40 milioni l'Inter non la fa un'operazione da 40 milioni secondo me su un buongiorno poi magari arrivassi sono stato il primo a parlare di YouTube di questo ragazzo che stava venendo fuori che era un difensore eccezionale che Frenturam purtroppo anche lì servivano 20 milioni cash non potevi dargli contropartite purtroppo mi sa che va alla Juve i portieri del Brasile uguale il portiere del Brasile eh ci sono state tante tre versioni ma la versione quella la versione vera è che l'Inter ce l'aveva in mano quest'inverno il portiere del Brasile dopodiché ti è sfuggito di mano perché cominciava a costare troppo in Zaghi ci sono state tre versioni in Zaghi ha preferito Martinez il procuratore di Bento poi in proiezione del in protezione dell'Inter ti dice no guarda l'Inter ha preferito andare su un altro portiere no il problema è che costava troppo Bento e che l'Inter eh che l'Inter l'ha mollato da quest'inverno perché ha incominciato a costare troppo poi se gioca anche il titolare in nazionale brasiliana capirai non puoi spendere quaranta milioni per un portiere perché Bento costava il doppio di Martinez forse anche un po' più del doppio quindi Bento Martinez lo stesso Guirassi che molti davano per fatto all'Inter Guirassi e eh novanta su cento Val Borussia Dortmund rimane in un campionato dove ha fatto bene non rischia nulla comunque gli danno tanti soldi ma eh per prenderlo servivano una ventina di milioni sono operazioni dove duriamo fatica noi possiamo prendere Goodman sono a venticinque una contropartita pagamento in due anni prestito con obbligo ma ehm vai in Bundesliga a offrire che se se non ce l'hai da spendere capito e questi quindi tutti i giocatori che non arrivano che tutti davano per fatti all'Inter eh non è così purtroppo io sono molto più tranquillo la gente dice Giuseppe ma è non sei più incazzato perché anche con i cinese c'era questo mercato no io ero incazzato perché mi sentivo in pericolo con Zang con Octi non mi sento in pericolo faranno quello che possono fare li capisco perché loro sono di passaggio ma confido di come ho detto ieri confido totalmente nella bravura dei nostri dirigenti punto e basta perché poi anche l'anno scorso e non solo hanno dimostrato di saper fare le nozze con i fini secchi e con i fini secchi poi ci saranno mercati migliori ci saranno tempi migliori ma uno step alla volta intanto a livello finanziario ora siamo a posto siamo credibili anche per andare a parlare dello stadio intanto ci siamo messi a posto ci siamo messi al sicuro poi dopo verranno gli altri step ma siamo campioni d'Italia abbiamo comunque una grande squadra i giocatori più forti sono rimasti tutti quindi già questo per me è un grande successo magari se fosse rimasto Zang qualcuno sarebbe stato stratificato molto probabilmente quindi per ora va bene in questa maniera ripongo totale fiducia nella dirigenza ciao Vite Grazie